Un incontro cordiale e fruttifero nello stato città del Vaticano ha avuto luogo tra sua eminenza reverendissima il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere di sua santità Papa Francesco ed il dottor Antonio Grilletto, un summit che ha visto la centralità di Castellabate con i suoi fondatori, San Costabile Gentilcore ed il Beato Simeone. Il colloquio è stato prodromico anche all'udienza generale che le comunità parrocchiali di Castellabate avranno con il Santo Padre il prossimo 23 febbraio in aula San Paolo IV, Sala Nervi e successiva Santa Messa Solenne nella Basilica di San Pietro. Per l'occasione, dichiarano Don Pasquale Gargione e Don Roberto Guida, verrà benedetta la statua di San Costabile per il quarantesimo anniversario della proclamazione del santo a compatrono della diocesi di Vallo della Lucania e consegnata altresì copia di libro Il Beato Simeone di Antonio Grilletto. Grande gioia replica il sindaco Marco Rizzo, si percepisce nella comunità di Castellabate che ha già cominciato il countdown per abbracciare sia pure virtualmente il successore di Pietro.